La mia princesa Ayaya Papà Perché mi mandi via? Tu sei la Ayaya? Vittoria Sei Vittoria? Ma pensi alla mia Ayaya tu No, no, non Vittoria Ok, Vittoria, ok Vittoria Però, dico, nel mio cuoricino Tu sarai sempre la mia Ayaya Sì? Sì, però ti chiamo Vittoria 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 Natalia Ayaya Basta Ayaya Hola Piano 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 Mmm Sì È un bel boccone E insomma, tra un pochino arriverà Babbo Natale Sì Che guarda se hai fatto la brava, se hai fatto la monella Cosa hai chiesto a Babbo Natale? Papà L'iPad Rosa 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 È l'ultimo giorno nella casetta, pensa un po' Da oggi Da oggi saremmo in una casa nuova Quanti ricordi che lasceremo qua, eh? Tantissimi ricordi Qual è il tuo ricordo preferito di questa casa? Elsa Elsa È il tuo ricordo preferito? Sì Quando è venuta a trovarti Elsa Oh, amore mio Non è fatta via E poi è andata via E non esiste Non esiste? No Non esiste Elsa No Esiste Elsa No Sì che esiste Elsa No È venuta a trovarti, amore Ma no E chi è quella che è venuta a trovarti? Eh Eh Anna No, era Elsa Non è il mio Ed è il mio Ma no E ti è mamma E ti è? Eh sì, era Elsa E ti è mamma Ti amo mamma Ti amo mamma Amo Matti! Amo Matti! Ok, la Matti ci sta, ma il papà... Ma ora non riesci più a trovarlo. Cerca, cerca dappertutto nel cassetto della scrivania. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!